Ciao, ciao a tutte, allora e a tutti Allora, video per parlarvi del co-wash Dunque, io ho fatto il co-wash ormai circa tre giorni fa e da allora non ho più rilavato i capelli, comunque pensavo di lavarli oggi massimo domani e ancora sono così, comunque un bel ricciolo definito Mi sono trovata molto molto bene, considerate che comunque io il co-wash lo faccio pochissimo solo che dovevo smaltire questo prodotto, che è questo balsamo della Lavera, la Calendula quindi, insomma, ho aperto il barattolo per prelevare tutto tutto il prodotto e ho deciso appunto di utilizzarlo per fare il co-wash Il co-wash sapete, credo tutte, più o meno cos'è sarebbe il lavaggio dei capelli attraverso l'utilizzo del solo balsamo Quindi, io cosa ho fatto? Ho preso il balsamo, l'ho messo in una ciotolina Ho aggiunto dello zucchero bianco, perché comunque ne ho parecchio da smaltire, visto che non lo uso più Ho aggiunto parecchio, circa due o tre cucchiaini di zucchero bianco Ho aggiunto due cucchiai di farina di cocco, che ovviamente uso solo ed esclusivamente per lo spignatto ovvero ne ho un sacchetto che tengo esclusivamente per spignattare, per non mischiare, insomma, i vari ingredienti E poi ho aggiunto le proteine del grano idrolizzate Queste qui, che è un attivo cosmetico che ho preso tempo fa su Camelis Feci anche un'acqua per corpo e capelli con questo ingrediente Allora, io mi sono trovata veramente molto molto bene Considerate che io questo balsamo, questo qui della La Vera Non mi ero trovata molto bene Nel senso che come post shampoo non mi è piaciuto assolutamente Nel senso che lo mettevi o non lo mettevi, era la stessa identica cosa Come co-wash ha fatto veramente un passo in avanti notevole Nel senso che mi è piaciuto moltissimo sui miei capelli l'effetto Quindi non saprei ormai come valutarlo Ad ogni modo, il co-wash è un tipo di metodo, se vogliamo, più prettamente estivo Perché comunque poi io l'ho lasciato in posa circa un paio d'ore E soprattutto è indicato per dei capelli un po' mossi, ricci, ribelli O comunque grassi o tendenti al crespo E mi piace ovviamente come, diciamo, impacco Se lo vogliamo chiamare così Da alternare ad altri impacchi che io faccio Con l'amla, olio di cocco, oppure con l'enneutro Io consiglio di provarlo comunque Perché il risultato su di me è stato grande Poi, altra cosa che vi volevo dire È questa L'ultima volta mi sono dimenticata di recensire questo prodotto Cioè di recensire, di dire Che avevo acquistato anche questo Lo struccante occhi idratanti delicato La Vivi Verde Mi era rimasto nascosto non so dove E comunque io ve ne riparlerò di questi prodotti Vivi Verde Perché ovviamente li devo testare Poi, altra cosa che volevo dirvi Io seguo Penso che ormai la conosciate un pochino tutti Martina Dell'Angolo Alchemico Che fa anche Lei, insomma, si presenta anche su Detto Fatto Con moltissime ricette carine Fai da te Ecco Bio E mi è interessato tantissimo L'ultima ricetta che lei ha pubblicato Anche su Facebook Del Vix Vix naturale fai da te Io penso che Io perlomeno ci sono cresciuta col Vix Anche quando ero piccolina, no? Ai bambini si usa mettere Questo unguento balsamico Soprattutto d'inverno E È un profumo Soprattutto quello del Vix Che mi riporta veramente un po' indietro Indietro nel tempo Quindi è una cosa che appena ho visto Che si poteva realizzare in casa Con semplicissimi ingredienti E con oli essenziali Ovviamente l'ho fatto subito Quindi questo è il Vix Che ho fatto Spignattato Guardate È una consistenza fantastica Fantastica veramente Io l'ho regalato anche A mia cognata E anche lei si è trovata benissimo Io ne spalmo un pochino Qui In questa zona qua E oltre, vabbè Un pochino ovviamente unge Però oltre a lasciare la pelle morbidissima Ha un profumo Ha un profumo Balsamico Più leggero rispetto al Vix originale Perché comunque rimane più delicato Però è veramente qualcosa di A me è piaciuto tantissimo Credo che questa ricetta La farò ogni volta E mi piace E mi piace proprio tanto Tra l'altro Veramente vi bastano Pochissime cose Per realizzarlo Adesso la ricetta È quella di Dell'angolo alchemico Quindi di mattina Però io se volete Ve la dico Così velocemente Sono 40 grammi di olio di mandorle dolci Penso che più o meno Ce l'abbiamo tutte In casa 10 grammi di burro di karité E anche questo Direi che è una materia prima Abbastanza usata 10 grammi di cera d'api Che comunque io tengo Perché ci faccio burro di cacao E poi sono tutti gli oli essenziali Magari questi sono un po' più Difficili da avere Però se ce l'avete O magari in parte Io vi consiglio di farlo In pratica serve L'essenziale di menta Di eucalipto Di lavanda Che io per esempio Non avevo E quindi io ho messo Perché è finito E ho l'essenziale di rosmarino O teatri Io ho messo entrambi Perché ci avevo entrambi Quindi si versa l'olio L'olio di mandorle dolce In un bicchierino di vetro Poi si aggiunge la cera d'api Il burro di karité E si mette a scaldare A bagnomaria Una volta fatto tutto questo Si mescola ovviamente Ogni volta Si lascia raffreddare E una volta raffreddato Si aggiungono tutti gli oli essenziali Si mette in frigo Per lasciare compattare Diciamo che Martina Consigliava 15-20 minuti Io l'ho lasciato anche mezz'ora E poi piano piano Si solidifica E è pronto all'uso Questa è la ricetta Veramente più semplice Di così Veramente si muore Io mi sono trovata benissimo Con le cose che Secondo me Da rifare ogni volta Soprattutto perché Anche se magari In questi giorni non sembra Ci stiamo vigilando comunque La stagione più fredda E è un unguento Che mi sta piacendo Tanto 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 E niente Per oggi è tutto Ci rivediamo Al prossimo video Un saluto a tutti E grazie Di seguirmi E di commentarmi Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti